Speriamo sia bella. È splendida. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. Già fuggi? Sì. Posso prepararti la colazione? No, grazie mille. Devo andare a una riunione. Ma ti chiamo. Come fai? Non hai il mio numero? Tu hai il mio numero? No, no. Ma io ti troverò. Sta tranquilla. Tira! 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 Troppo alto, sta attento, c'è. Allora, che aspetti? Tira, dai, muro, attraforza. Emre! Continuate, ragazzi. Non vieni a lezione oggi? No, abbiamo una partita importante, molto importante. Dobbiamo lavorare sodo. D'accordo, ti passerò gli appunti. Sei gentile, grazie. Su, ragazzi, andiamo. Ma che posto è questo? E dov'è finita la mia macchina? Se l'avevo davvero una riunione. Mette mi ucciderà. No, mi prego! Ehi! Ehi, quell'auto è mia! Ehi! Fermi! Ehi! L'avevo fermato io? No, lo prendo io. Aspetto un taxi da un'ora. Per favore, faccio tardi all'università. E io faccio tardi per una riunione. Ehi! Ehi! Hai visto cosa hai combinato? Sarei stata io. Ovvio. Io sono una signora, non trattarmi così. Fai il gentiluomo. Certo, chiaro. Sei una signora. Scommetto che lo dici sempre. Vuoi fermare il prossimo taxi prima di me? Non ci provare! La mia borsa! Aiutami! Non stare lì a guardare! Sta' attento! La mia testa! La tua è una testa dura, non ti sei fatta proprio niente. Ma non riesci a stare attento! Scusa tanto, non l'ho fatto apposta. Sarà meglio che io stia lontano da te. Molto meglio!